Atto di bullismo ieri sera in piazza Madonnina Battipaglia nei confronti di un bambino. A denunciarlo sui social la madre che ha riferito quanto avvenuto intorno alle 21.30. Due bambini a bordo di una bicicletta avrebbero prima lanciato delle pietre addosso al malcapitato e poi una catena fra i raggi della sua bici. La vittima, secondo il racconto della madre, sarebbe stato anche colpito alla tempia. A prestare soccorso al piccolo, gli amici e alcune persone presenti in zona. Il bambino è stato accompagnato presso l'ospedale di Battipaglia dove è stato medicato. I due bulli si sono allontanati in pochi minuti facendo perdere le proprie tracce.